Oggi ragazzi ci siamo vissi nei panni di MrBeast, andremo a spendere una marea di lingotti d'oro, potrò utilizzare solo e soltanto le armi comprate con i lingotti d'oro, un po' come le challenge di MrBeast che spende sempre un sacco di soldi per fare il set, per fare i premi incredibili, per fare cose assurde e quindi faremo una challenge a tema. Siamo qui con la mia ragazza, che ci aiuterà anche lei appunto con la skin di MrBeast, che mi piacciono abbastanza sia quella versione anime che quella classica proprio, molto carine, anche deltaplani, picconi, li andrete a vedere tutti nel video di oggi perché ovviamente ho shoppato tutto il set. A proposito di shop, vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi, quindi mi raccomando ragazzuoli, contrate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo, grazie a vero di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video, ora vi lascio la partita, buona visione. Ok ragazzi, allora andiamoci nel lì dove ho pingato perché banalmente c'è un NPC che vende la pistolina silenziata, ora io non so quanti lingotti di oro ho, tu amore quanti ne hai? 200 Ah perché tu stai ancora cercando i perks, ah no io ne ho 3658 quindi tecnicamente non dovrei avere troppi problemi a shoppare un po' tutte le armi che mi servono. Comunque lì dove stiamo andando c'è questo NPC che dovrebbe vendere la mia pistolina silenziata, poi da lì ci spostiamo in altri posti che mi sono già contrassegnato nella mappa per fare tipo tutto un tour di migliori NPC, delle migliori armi che posso comprare e vi dico solo che a un certo punto arriveremo a comprare anche lo sparaslarp. Vediamo un pochettino come va, non poteva esserci challenge migliore. Comunque ragazzi parlando un attino della skin, Serena ha messo appunto la skin quell'anime, sono molto fighe eh, sono tutte e due molto carine ma anche i vari oggettini, il piccone, tutto veramente molto carino devo dire. Però se è una skin maschile ripeto poi è molto slim, molto traiardina. E' vero, quello è vero. Tu sei a terrata perfetta, io sono abbastanza in alto ma arrivo. Dov'è l'NPC? Dent. E' dentro, no fuori, fuori, qui fuori. Allora raga, tra l'altro potrei anche assoldarla ma non credo lo farò. Ci prendiamo giusto la pistolina. Non posso utilizzare altre armi. Eh certo, ti pareva? Prendi tutto tu qua che tanto a me non servono questi colpi. Io ho gli shieldini, se ti interessano. E niente, poi appena finiamo di lootare qui ci muoviamo. Ha atterrato qualcuno? Come ha atterrato qualcuno? No, a me non sembra, amore. Avevo sentito un rumore strano, sembrava un delta. No, no. Sì, sì, questo non me lo segna però. Eccone uno qua fuori. Ma che cavolo? Eeeh, ok. Ha preso anche un pampo, ha sparato alla... Ah, un altro? Altri due. Ma che? Ok. Va bene, va bene, va molto bene. Ok ragazzi, allora, presa la macchina, adesso andiamo lì perché c'è un pampo che mi aspetta. C'è un bel pampo che devo andare a comprare lì da un altro NPC. E poi ci andiamo a comprare lo sparaslarp. Se poi la tempesta ci vuole bene, ci farà andare in un altro luogo con una... Oh, c'è gente, c'è gente. E allora, andiamo belli accucciati, tra l'altro c'è anche il primo perk. Oh mio Dio. Terrato. Ok, bravo amore. Quest'altro sta qua dentro. Fra? Fra? Il fra stava facendo i materiali. Non sapendo che però siamo in no build. Allora, c'è un pacco regalo che... Tiro a te, tieni amore. No. Ci andiamo. C'è questo però. Eh... Ah, ok, così almeno ci fulliamo. Mi son comprato il pampo, ma tu amore hai colpi piccoli? Eh, sì, ma c'ho praticamente solo l'arma quella. No, ma c'erano... C'erano un sacco di scar nell'altra casa. Ah, ma allora c'avevano un pampo epico, l'avano comprato da lei allora. Ok, allora il perk Acrobata. Acrobata, assolutamente. Sì, magari, grazie amore. E adesso dobbiamo andare qui a distese, ragazzi, perché c'è quello che ci vende proprio lo sparaslarp. Quindi è l'NPC che spacca, vero? Sì. Sì, era l'NPC che spaccava. Allora, vedo la gente che spara, ma vorrei evitarla, più che altro perché vorrei trovare prima l'NPC, che non so qui dove sia. Eh, attenzione. Ok, ok, me l'ha segnato. Andiamo, 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 andiamo. Così, raga, ci prendiamo anche lo sparaslarp. Siamo abbastanza a cavallo, ma poi vorrei cercare qualche altra arma. Allora, eccolo qui. Perfetto, l'abbiamo comprato. Qui sto lasciando anche due scildoni nel dubbio. E quindi direi che possiamo andare a pushare questi qui che abbiamo visto da quest'altra parte e che stavano sparando. Dove siete, amici miei? Non li vedo più, non li vedo più. Perfetto. Allora, abbiamo anche l'ampliamento della pistola. Che è 24 con quella silenziata. Tanta roba, veramente tanta, tanta, tanta roba. Più che altro io adesso ho paura a stare qui in giro perché, amore, le ho visti proprio qui, i nostri cari amici avversari. Rip. Allora, campero un attimo, ragazzi, perché ho la mappa di fortnite.gg, il sito che pinga tutto sulla mappa, aperto. E vedo dove andare a prendere un'altra arma. Ok, ragazzi. A fratture fallaci c'è l'assalto. Occhi rossi, ma stanno sparando qui, amore. C'è gente qui. C'è gente qui. Allora, non so se stanno provando a sparare a noi. No, mi sa i lupi. Ma chi stanno provando a sparare? Ok, ok, ok. Sì, lo vedo, sta qua. Sì, stanno... Ok, questo era bianco. Non ho capito perché. Ok, questo no. L'ho spaccato, ma è scappato di brutto. È scappato di brutto. Ok, atterrato. Atterrato, ma... Ho visto un terzo, eh. Ho visto anche un terzo. Oh, signor lupo. Ecco, eh. Si faccia gli affari suoi, signor lupo, perché qua non è giornata. Qui non è giornata. Qua c'è una cesta, ma non è, raga, che ormai mi interessa. Oh, scarviola, amore. Scarviola qui. E... Boh, non ho visto l'altro. C'erano... Almeno un'altra persona l'avevo vista, ma mi sa che è scappata. Vabbè. Vabbè, allora, a questo punto andiamocene verso lì. Fratture fallaci, perché così almeno mi prendo anche un qualcosa da più lontano. Perché, per carità, va benissimo il segugio d'ombra, la pistolina silenziata. Però da lontano potrebbe fare un bel po' di fatica, eh. Allora, nuovo... Vabbè, facciamo la mano lesta. Stanno sparando verso destra. E... Vediamo un pochettino... Ma l'avevo spenta la radio, perché ogni volta le riaccende. Sì, stanno sparando lì. E... Vabbè, andiamo a fightare, ragazzi. Giustamente direi di andare a fightare. Sì, ma non vorrei che ci sia qualcuno sopra, però, eh. Quindi io... Sì, sì, c'è uno sul mondo. Eh, infatti io... No, 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 sopra la montagna, perché mi segna gli spari anche verso qui sinistra. Quindi non vorrei essere fregato dall'alto. Oh, vabbè, allora. Vediamo un po'. Eh, sì, infatti stanno sparando da di qua. Eccolo là. Ok, brava. Ha rotto scilla anche a questo. Perfetto. Madonna, raga, comunque le pistoline in sta stagione sono devastanti. Già il segugio d'ombra era fortissimo. Adesso che con il perk può avere anche più colpi all'interno ed è più veloce a ricaricare... Devastante, eh. Ok, stanno lì sempre sul molo. Non ho capito con chi si sta fightando. Non lo so, ma questa cosa con la pistolina bianca vorrei aver buttato. Probabilmente sì. No, senza il probabilmente. Eh, sì. La pistolina bianca sarà da quando ti rebuttano. Sì, 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 sì. Ah, c'è gente qua? Io praticamente sto killando tutti solo con la pistolina. A che ti serve allora l'altra arma? Non lo so. Però era giusto per prendere qualcos'altro e spendere altri lingotti, capito? Ok. Era giusto per spendere altri lingottini. Uh, uh, mi sparano? Da dietro me lo sparano. Eccolo. Ok. Ok, perfetto. Quindi questi dovrebbero essere stati fatti tutti fuori. Comunque siamo ancora a 25, eh. Quindi potremmo essere ancora un bel po' di team. Va bene. Sì, cioè, io in realtà a questo punto potrei anche non prenderla l'altra arma. Ma che fai? Te ne privi? No che non te ne privi, dai. Peccato, non ci sono più NPC, ragazzi, che hanno l'excalibur. Perché avrei voluto prendere l'excalibur. Ma soprattutto... Ma sai che ci ho pensato adesso? È in safe dove dovevi andare per la campagna, quindi... Sì, sì, quindi direi di andarci. No, sto pensando adesso al potenziamento. Potrei potenziare il pump. Non ci ho pensato, raga, che potevo spendere lingotti anche così. Vabbè, lì nella città dove stiamo andando ci sarà sicuramente il... Quello per potenziare la stazione di potenziamento, raga. Ah, vedi, perché qui c'è il furgoncino del rebutto. Ah, sì, forse l'hanno rebuttato qua. Sì, 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 sicuramente. Allora... Eh, va, facciamo... Allora, tanto pure questo costa i lingotti. Troviamone qualcuno bello forte, raga. Che poi in realtà quello dei cespugli era bello forte. C'è qualcuno col martello verso sinistra, amore. Sì, sentito. Previsione. Prendiamo previsione, raga, così poi vediamo le prossime safe dove sono. Ma io ho preso il pingo, invece. Mi prestito alla tetra. Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi tu a te te pinga la gente. Io posso vedere dove sono le prossime tempeste. Allora, qui, ragazzi, ci dovrebbe essere l'altro NPC di cui stavamo parlando che dovrebbe vendere l'assalto a occhi rossi. Che a me sta piacendo, comunque sia. Mi toglierò le quattro cura bomba che non so se poi le potrai prendere tu, amore. Ah, aspetta, aspetta. Il potenziamento sta di qua. Però vorrei venire al potenziamento avendo già l'altra arma. Vabbè, intanto potenziamo questa, poi potenziamo anche quella. Nel dubbio. Sì, eh, vabbè. Uh, ma ho trovato... Hai visto? C'erano tre cassaforti? Perché c'è l'NPC. Raga, mi sono rifatto tutti i soldi, come MrBeast, che fa i video, spende milioni per fare un video, e poi giustamente si ripaga con magari sponsor e il video stesso. Anche se però lui ha dichiarato più volte che con la maggior parte dei video che produce e che fa, va in perdita, sostanzialmente. Quindi che eroe, che eroe. Allora, vediamo un attimino se è l'NPC pingato qui, a questo punto. No? Oh sì? Sì, eccolo! Fucede assalto a occhi rossi. Allora, lascio le cura bomba e vado a potenziare anche questo. Tanto con tutti i lingotti che ho trovato anche poco fa ce la faccio tranquillamente, ragazzi. Ovviamente il segugio d'ombra non posso potenziarlo perché è di rarità esotica, quindi non posso. Sarebbe stato figo, però. Allora, eccoci qui. Potenziato. Non ho contato bene i lingotti che abbiamo speso quest'oggi, ma credo che abbiamo speso un bel po', eh. Credo che abbiamo speso un bel po'. Almeno 2-3 mila lingotti. Sì, forse 3 mila perché poi ne abbiamo ripreso tanto altro di oro. Sì, un 3 mila forse sì. Ah, siamo rimasti soli in 11. Quindi questa cosa mi puzza un pochino perché la mappa è ancora parecchio grande, raga. Eh, la tempesta è ancora parecchio grande. Tanti in solo in solo perché siamo 6 team. Ok, e allora sì, probabile. Ah, c'è gente, c'è gente qui. Infatti sparano anche di qua. Attenzione, attenzione. Salgo proprio a salire sulla casa. Qui si sono fatti un regalo. Attenzione. Eh, poverino. Gli ho rotto lo shield dopo già due colpi. Comunque, raga, a me sta salto sta piacendo abbastanza, eh. No, gli hanno ucciso il compagno, mi sa. E mi sa che stanno di qua, amore. E la prossima safe me la segna nella minimappa. È proprio qui davanti a noi. Quindi io salirei qua. Salirei qua. Però da sinistra. Da sinistra che forse è un po' più safe. Sì, 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 sì. Perché se poi c'è qualcuno sopra che ce l'ha, siamo fritti. Non c'è nessuno. No, però mi sa che l'hanno killato poco fa. Eh, sì, 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 sì. Qui davanti a noi, amore. E perché non me l'ha pingato il perk? Non lo so. Forse perché non erano abbastanza vicini. Questo cattivo... Oddio, da indietro! Mi ha distrutto. Mi ha distrutto. Ok, non l'avevo ancora usato, raga, il coso. Tra l'altro. Però sono andati tutti... Oh, c'hanno la corona. E me la piglio, la corona. Stanno qua sotto. C'è uno qua sotto, distrutto, che stava sparando a qualcuno. Qua sotto, invece. Ah. No, questo era crashato, mi sa. Aspetta che voglio la corona. Prendila, prendila. No, no, chi uccide, chi uccide. Io sto qui fermo, buono, buono. Siamo 2v2, credo. No. No? Uh, siamo 3 team, quindi. Ma questo come ha fatto? Ha messo la moto qua sopra, sull'albero. Va bene. Ok, allora stiamo attenti perché saranno divisi sicuramente. Oh, sparano di qua? Sentito. Eh, si stanno fetando, infatti, sì. Eh, uno l'ho spaccato, che era già mezzo one shot, tra l'altro. Quest'altro mi spara. Lo finisco col secuggio d'ombra. Lo finisco col secuggio d'ombra. Let's go! E abbiamo fatto anche la vittoria della corona. Fregata ai nemici all'ultimo, proprio. Che dire, ragazzi? Challenge di MrBeast. Perfetta. Fatta. Prima partita. Let's go. Anche perché, raga, queste challenge con l'oro non è che ne possiamo fare più di tante nello stesso video, perché ovviamente a un certo punto l'oro lo finisce. Cioè, per esempio, se non essimo fatto una buona partita, per la prossima partita avrei avuto solo 1100 lingotti. Che, insomma. Insomma. Detto questo, vi ricordo, ovviamente, il codice creatore GGY, non ti tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciando un bel mi piace. Per noi è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao!